Però, Marco Vervello, ieri il presidente ucraino Zelensky è stato intervistato dalla televisione italiana, negli studi Bruno Vespa, insomma, e ha chiarito che a questo punto del conflitto, al tavolo negoziale, insomma, l'Ucraina si siede se sostanzialmente Putin si ritira. Beh, qui è la grande domanda su che cosa succede adesso. Abbiamo sostanzialmente due posizioni. Da una parte abbiamo Macron che dice se ne esce non umiliando la Russia. Dall'altra abbiamo Boris Johnson, il governo britannico, che dicono l'obiettivo a questo punto è la sconfitta militare dell'esercito russo che se ne deve andare dai territori che ha occupato, che sono territori ucraini, e sostanzialmente l'indebolimento, se non il rovesciamento, del regime di Putin. Ecco, tra queste due posizioni, chi prevarrà o quale prevarrà dipenderà esattamente, come ha detto Zelensky, prevarrà dalla situazione sul campo di chi avrà la possibilità di sedersi al tavolo delle trattative, perché evidentemente si andrà ad una trattativa, un negoziato, probabilmente tra le superpotenze, non soltanto tra Ucraina e Russia, e quello dipenderà molto da quello che succede nelle prossime settimane sul campo. Ed è questa un po' la prima pagina di Repubblica, direttore Molinari, che parla, ci parla di queste trattative segrete che di fatto i generali ucraini e russi starebbero, stanno, secondo il tuo giornale, portando avanti. Sul piatto, sul tavolo di quel negoziato, che cosa c'è? Ma diciamo, queste notizie fanno riferimento a cosa sta succedendo lungo un fronte sostanzialmente bloccato. dove è in corso una guerra di attrito, generali russi e generali ucraini, molti dei quali hanno fatto le stesse accademie militari, si conoscono da tempo, hanno iniziato delle conversazioni informali. E se noi facciamo attenzione a quanto sta succedendo sul terreno, la realtà è che stiamo andando verso un assetto molto stabile. Anche le notizie di questa mattina. Ecco, allora, qualche problema di comunicazione con il direttore Molinari, vediamo di ripristinarlo. Intanto, Iannina, veniamo alle questioni che poi più ti riguardano da vicino e che riguardano la tua area di competenza. L'economia, perché insomma, ieri i giornali internazionali dicevano che questa situazione di conflitto rende molto difficili le cose sul piano economico, soprattutto per l'Europa. E quindi probabilmente Putin, accortosi di questa difficoltà, potrebbe insistere per mettere in difficoltà l'Europa e in qualche modo disincentivare il sostegno all'Ucraina da parte dell'Occidente. Dubito che questo accada. Sicuramente un altro capolavoro di, tornando alle parole di Paolo Magri, un altro capolavoro di Putin è ancora una volta di rendere l'Europa unita. L'abbiamo visto col Covid, adesso si stanno un po' stringendo i ranghi. La prossima settimana c'è un'importantissima scadenza, la presentazione del Repower EU, che è il nuovo riposizionamento dell'Europa tutta, ricordiamo, unita, per affrontare il tema del caro gas, della mancanza di gas. Quindi si procederà su due piani, e questi secondo me vanno seguiti con grandissima attenzione. Uno è di come diversificare le pronte di approvvigionamento, quindi non sarà più Stato per Stato a farlo. Abbiamo visto nei giorni scorsi il Premier, comunque il nostro Premier Mario Draghi, che ha avviato dei dialoghi con tutte delle aree, per esempio del Nord Africa e con qualt'altro, e per una volta si viaggerà anche sul piano economico uniti. E questo è sicuramente un grande passo. E la seconda ci sarà un sostegno, un aiuto, ovvero i grandi paesi, quelli che sono più indipendenti dal punto di vista del gas, aiuteranno, si razionalizzeranno, le loro spese energetiche, le loro dispersioni di energetiche, per aiutare chi, invece, quei paesi che sono, soprattutto quelli dell'Est, più colpiti da questo taglio della parte di Putin, del gas e del petrolio. Quindi è sicuramente un'Europa più unita anche sul punto economico. Tu sei molto fiduciosa su questo, eppure tante volte in questo studio abbiamo parlato di quanto invece l'Europa, e poi si sia trovata a dover fare i conti con le individualità degli stati membri. e quindi, per esempio, l'altro grande tema di cui pure Mario Draghi ha parlato nelle ultime ore è la presa in carico di una Ucraina che dovrà essere ricostruita quando la guerra finirà. Guarda, io sono, insomma, d'inizio per natura, quindi cerco di vedere anche il bicchiere mezzo pieno, quando anche una situazione dove il bicchiere quasi è rotto più che mezzo pieno, più che un pezzo vuoto. Quello che posso dire è che un altro scenario che si può aprire è che sicuramente un ruolo centrale lo avrà il bacino del Mediterraneo nel futuro. Quindi ci sarà una parte di ricostruzione, una parte ci sarà bisogno di un piano marcia, ma il bacino del Mediterraneo che è sempre stato visto da tutti i stati d'Europa come un punto negativo, si pensi per esempio al tema dell'immigrazione, potrebbe diventare un grande hub economico, soprattutto per quanto riguarda l'energia, e sicuramente questo potrebbe aprire nuovi scenari sia politici che economici per l'Europa. Quindi, insomma, tutto può essere visto anche in una chiave, non dico positiva, perché qui di positivo c'è poco, stiamo parlando di una guerra, ma sicuramente scenari economici che si possono aprire, diversificare. Scenari economici in cui, che poi si mi stanno misurando evidentemente tutti i paesi in questo momento, a partire diciamo dal nostro, con l'inflazione galoppante e tutta un'altra serie di criticità che riguardano gli imprenditori, con la produzione industriale che ha fatto registrare il segno a me. No, vi devo farvi vedere